Siamo arrivati al mio canale YouTube, ragazzi, sono Aurelio. Siete pronti per un nuovo video? Iniziamo! Con questo video, facciamo il lungo marathone riguardo la scelta di modellazione La spazio tra scienza e sci-fi. I soggetti presenti qui sono i ultimi, ma certamente non i ultimi. Il primo soggetto è relato un corpo specchio che l'Astronaut Paolo Unespoli testò durante la missione de vita, che si è avuto nel ASE in novembre del 2017. Il secondo soggetto, se si può essere chiamato, riguarda un scenario speciale creato in tale Salenia space warehouse. Lì, i loro tecnici testano nuovi materiali e strumenti che, nel futuro, potrebbero essere usati da astronauti durante una missione a Mars. Iniziamo ora. PERSEO Il PERSEO, Personal Radiation Shielding for Interplanetary Missions Project, fondato da l'Agencia del Space Space, ha portato alla creazione del primo prototipo di un vestito di radiazione, usando l'acqua disponibile in orbita per protezione individuale in caso di eventi solari, particolarmente per gli astronauti. La collaborazione, che include gli partneri e le compagnie, attivati nel risultato di sviluppo e sviluppo tecnologico, ha designato e costruito il prototipo che è successivamente testato a Bord International Space Station durante l'ISS VITA mission. Il successo dell'experimento, a Bord International Space Station, ha dimostrato la praticità di usare un vestito come questo per proteggere gli astronauti durante il suo ritmo in orbita. questo sarà utile nel futuro forse, quando gli astronauti saranno coinvolgendo in avanti planetari che necessitano un'attività più tardi nel space. Il progetto di Perseo, uno dei VITA esperimenti, fondati e supervivenuti dall'Italian Space Agency, è successivamente condizionato a Bord International Space Station per l'Isa astronauta Paolo Nespoli, Expedition 52-53, in novembre 2017. E ora vi mostro il posto dove gli tecnici di Tala e Salenia Space testano diversi modelli utili nel futuro per l'esplorazione di Mars. a Bord frontier Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.